Reina. Tuffarsi impicchiata dentro la bocca di un vulcano non era propriamente in cima alla lista dei desideri di Reina. La sua prima veduta dell'Italia meridionale fu a 1500 metri da terra. A ovest, lungo la mezzaluna del Golfo di Napoli, le luci delle città addormentate brillavano nella penombra dell'aurora. A 300 metri sotto di lei, una grande caldera si spalancava in cima a una montagna, con un pennacchio di vapore bianco al centro. Ci mise qualche attimo a recuperare un minimo di orientamento. Viaggiare nell'ombra la lasciava sempre un po' frastornata, come se alle terme romane qualcuno l'avesse trascinata fuori dalle acque fredde del frigidarium per scaraventarla subito nella sauna. Poi si rese conto di trovarsi sospesa a mezz'aria. La gravità prese piedi e cominciò a precipitare. «Niko!» urlò. «Per tutti i flauti di pan!» imprecò Glison Hedge. «Niko si agitava scompostamente e per poco non rischiò di sfuggire alla presa di Reina. Lei lo tenne forte e afferrò il coceggio per il colletto della camicia, impedendogli di rotolare via. Se si separavano adesso, erano morti. Piombavano verso il vulcano con il loro pesante bagaglio alle spalle, la tena partenos, che Niko si trainava dietro con una specie di imbracatura, come un paracadute assolutamente inefficace. «Quello sotto di noi è il Vesuvio!» gridò Reina per farsi sentire nel vento. «Niko, te le trasportaci via di qui!» Ma Niko aveva uno sguardo folle e annebbiato. I capelli neri e sottili gli frustavano il viso come un corvo scacciato dal cielo. «Io non posso, non ho la forza!» Il coceggio belò. «Ho una notizia per te, ragazzino! Le capre non volano! Facci schizzare via di qui, o ci spiaccicheremo come una bella frittata di a tena partenos!» Reina si sforzò di pensare. Era pronta ad accettare la morte, se necessario, ma se la tena partenos fosse andata distrutta, l'impresa sarebbe fallita. E questo no, che non poteva accettarlo. «Niko, viaggiamo nell'ombra!» ordinò. «Ti presterò la mia forza!» Lui la fissò senza capire. «Come fallo?» Gli strinse più forte la mano. Il simbolo di Bellona tatuato sul suo braccio, la torcia e la spada, si fece dolorosamente incandescente, come se le venisse impresso a fuoco per la prima volta. Nico spalancò la bocca sorpreso, gli tornò il colore sul viso, e un attimo prima che entrassero nel pennacchio di vapore del vulcano, ci volarono nelle tenebre. L'aria si fece densa. Il suono del vento fu rimpiazzato da una cacofonia di voci che vi svegliavano in migliaia di lingue diverse. Lo stomaco di Reina era come una grande piragua, sciroppo freddo su ghiaccio tritato. La merenda preferita della sua infanzia a Viejo San Juan. Si chiese perché quel ricordo emergesse proprio ora, in punto di morte. Poi la sua visuale tornò nitida. Poggiò i piedi su un terreno solido. Il cielo aveva cominciato a schiarirsi a oriente. Per un attimo Reina pensò di essere tornata a Nuova Roma. Colonne d'ori che fiancheggiavano un atrio grande quanto un campo da baseball. Di fronte a lei, un fauno di bronzo si ergeva in mezzo a una fontana ribassata rivestita di piastrelle. Piante di mirto crespo e cespugli di rose fiorivano in un giardino vicino. Palme e pini si allungavano verso il cielo. Vie lastricate si dipartivano dalla corte in varie direzioni. Strade diritte e piane di robusta costruzione romana, che costeggiavano basse case di pietra dai portici colonnati. Reina si voltò. Alle sue spalle la tena partenos si ergeva intatta, dominando la corte come una statua ornamentale assurdamente fuori misura. Il piccolo fauno di bronzo della fontana teneva entrambe le braccia alzate al cospetto della dea, come per ritrarsi spaventato dalla Nuova Venuta. All'orizzonte si stagliava il Vesuvio, una sagoma scura e curva, ora a diversi chilometri di distanza. Dense colonne di fumo si levavano dalla sommità. «Siamo a Pompei», comprese Reina. «Oh, non è una buona cosa», disse Nico, e crollò un secondo dopo. «Cavoli!» Il coceggio lo afferrò prima che toccasse il suolo, poi lo posò ai piedi dell'Atena e allentò l'imbracatura che lo legava alla statua. Anche Reina si sentiva cedere le ginocchia, ma se lo aspettava, succedeva sempre quando condivideva la sua forza. Però non si aspettava di ricevere così tanta angoscia da Nico di Angelo. Si sedette come un sacco di patate, riuscendo a malapena a restare cosciente. Per tutti gli dèi di Roma, se quella che aveva avvertito era solo una porzione del dolore di Nico, come faceva lui a sopportarlo? Cercò di riprendere fiato, mentre Hedge frugava tra la propria attrezzatura da campeggio. Attorno agli stivali di Nico, le pietre si incrinarono. Scure crepe si irradierono verso l'esterno, simili a un'esplosione d'inchiostro, come se il suo corpo stesse cercando di espellere le ombre attraverso le quali aveva viaggiato. Il giorno prima, era andata peggio. Un intero prato era passito, mentre degli scheletri erano spuntati dal terreno. Reina non aveva molta voglia di vederlo succedere di nuovo. Bevi un poco. Gli offrì una borraccia di pozioni di unicorno, polvere di corno mescolata con acqua benedetta del piccolo Tevere. Avevano scoperto che su Nico funzionava meglio del nettare. Lo aiutava a purificare il suo corpo dalla fatica e dalle tenebre, diminuendo il rischio di combustione spontanea. Nico mandò giù, ma aveva ugualmente un aspetto terribile, con la carnagione bluastra e le guance infossate. Lo scettro di Diocleziano che gli pendeva al fianco brillava di un'accesa luce viola, come un livido radioattivo. Studiò Reina. Come hai fatto a... passarmi tutta quell'energia? Lei voltò il braccio. Il tatuaggio bruciava ancora come cera bollente. Il simbolo di Bellona e la scritta SPQR con le quattro linee dei suoi anni di servizio. Non mi piace parlarne, rispose, ma è un potere che mi viene da mia madre. Posso infondere forza negli altri. Edge sollevò lo sguardo dal suo zaino. Sul serio? Ma allora perché non l'hai fatto anche con me, ragazza romana? Voglio i supermuscoli! Reina si accigliò. Non funziona così, coach. Posso farlo solo in situazioni estreme ed è più utile se ci sono tante persone. Quando comando le mie truppe, posso condividere qualsiasi dote io abbia, energia, coraggio, resistenza, moltiplicata per il grado delle mie forze. Nico inarcò un sopracciglio. Un dono piuttosto utile per un pretore romano. Reina non rispose. Era proprio questo il motivo per cui preferiva non parlarne. Non voleva che i semidei sotto il suo comando si sentissero controllati. Ne voleva diventare una leader solo perché aveva un potere speciale. Poteva trasmettere soltanto le doti che già possedeva e non poteva aiutare nessuno che non avesse la stoffa dell'eroe. Il coach sbuffò. Peccato! Mi sarebbero piaciuti i supermuscoli! Tornò a frugare nel proprio zaino che sembrava contenere una scorta senza fondo di utensili da cucina, attrezzi di sopravvivenza e arnesi sportivi vari. Nico beve un altro sorso di pozione di unicorno. Aveva gli occhi gonfi di stanchezza, ma Reina capì che si stava sforzando di restare cosciente. Però sei crollata anche tu, notò lui. Quando usi il tuo potere ricevi anche una specie di... di feedback da me. Non è come leggere nel pensiero, chiarireina, e non è nemmeno un legame empatico. È solo... una momentanea ondata di stanchezza, emozioni primitive. Il tuo dolore mi ha investito. Prendo un po' del peso che hai sulle spalle. L'espressione di Nico si fece guardinga. Si rigirò sul dito l'anello con il teschio, proprio come faceva Reina con il suo anello d'argento quando rifletteva. Lei lo notò. Avere un'abitudine in comune con il figlio di Ade la mise un po' a disagio. Aveva avvertito più dolore in quella breve connessione con Nico che in tutta la sua legione durante la battaglia contro il gigante Polibote. Il contatto l'aveva prosciugata più dell'ultima volta che aveva usato il suo potere per sostenere il Pegaso Scipione durante la traversata dell'Atlantico. Cercò di scacciare quel ricordo. Il suo coraggioso amico alato, agonizzante per colpa di una ferita avvelenata, con il muso posato sul suo grembo e lo sguardo fiducioso. È lei che calava il pugnale per porre fine alla sua sofferenza. Numi del cielo, no! Non poteva pensarci troppo o non sarebbe andata avanti. Ma il dolore che Nico le aveva trasmesso era più acuto. Dovresti riposare, gli disse. Dopo due salti di fila, anche se ti ho aiutato un poco, è una fortuna che tu sia ancora vivo. Dobbiamo essere pronti a farlo di nuovo al tramonto. Si sentiva in colpa a chiedergli una cosa così impossibile. Purtroppo, aveva un sacco di esperienza nello spingere i semidei oltre i loro limiti. Nico serrò la mascella e annui. Ora siamo bloccati qui. Perlustrò le rovine con lo sguardo. Ma Pompei è l'ultimo posto al mondo in cui avrei scelto di atterrare. Questo posto brulica di Lemures. Lemuri? Il coach edge era impegnato a costruire quella che sembrava una specie di trappola con dello spago per aquiloni, una racchetta da tennis e un coltello da caccia. Vuoi dire quei graziosi piccoli roditori che no? Nico sembrava seccato, come se gli facessero troppo spesso quella domanda. Lemures, fantasmi per niente amichevoli. Ce ne sono in tutte le città romane. Ma Pompei, l'intera città fu spazzata via, ricordò Reina, nel 79 d.C. il Vesuvio eruttò e ridusse la città in cenere. Nico confermò con un cenno della testa. Una tragedia del genere crea un sacco di spiriti arrabbiati. Edge scrutò il vulcano in lontananza. Sta fumando! Brutto segno? Non lo so. Nico giocherellò con un buco su un ginocchio dei suoi jeans. Le divinità della montagna, gli Urea, percepiscono i figli di Ade. Forse è per questo che siamo stati dirottati. Forse lo spirito del Vesuvio ha cercato di ucciderci di proposito. Ma dubito che la montagna possa farci del male a questa distanza. Ci vorrebbe troppo tempo per una vera eruzione. La minaccia più immediata è quella che abbiamo intorno. Reina si sentì formicolare la nuca. Era abituata a Ilari, gli spiriti amichevoli del campo mezzosangue, ma perfino loro la mettevano a disagio. Non erano molto bravi a rispettare lo spazio personale. A volte la attraversavano di netto dandole le vertigini. Trovarsi lì a Pompei le procurava la stessa sensazione come se tutta la città fosse un unico grosso fantasma che l'aveva inghiottita in un boccone. Non poteva dire ai suoi amici quanto avesse paura dei fantasmi né perché. Il motivo stesso per cui lei e sua sorella erano fuggite da San Juan tanti anni prima era un segreto che doveva restare sepolto. Puoi tenerli a bada, chiese. Nico allargò le mani. Ho mandato il messaggio state alla larga, ma non appena mi addormento non ci servirà molto. Il couceggio diede dei colpetti al suo strano marchigegno, il coltello da tennis. Non preoccuparti, figliolo, circonderò l'area di allarmi e trappole e poi veglierò su di te tutto il tempo con la mia mazza da baseball. La cosa non sembrò rassicurare Nico, che però aveva già gli occhi socchiusi. Ok, ma ci vada piano. Non vogliamo un'altra Albania. No, concordò Reina. La loro prima esperienza di viaggio nell'ombra insieme due giorni prima era stata un fiasco totale, probabilmente l'episodio più umiliante della sua lunga carriera. Forse un giorno se fossero sopravvissuti ci avrebbero riso su, ma ora no. Avevano stretto un patto tutti e tre. Non ne avrebbero mai parlato. Quello che era successo in Albania sarebbe rimasto in Albania. Il couce sembrò ferito. Oh, beh, sì, certo. Tu pensa solo a riposarti, figliolo. Ti copriamo noi. E va bene, c'è detto Nico. Forse un poco... Riuscì a togliersi il giubbotto da avviatore e a ripiegarlo a mo' di cuscino e un attimo dopo russava disteso a terra. Reina si stupì di quanto sembrasse sereno. L'espressione preoccupata era svanita. Il suo viso si era fatto stranamente angelico. Degno del suo cognome, di Angelo. Poteva quasi credere che fosse un quattordicenne come tanti e non un figlio di Ade strappato alle grinfie del tempo negli anni quaranta e costretto a sopportare più tragedie e pericoli di quelli che molti semidei affrontavano in una vita intera. Quando Nico era arrivato al campo Giove Reina non si era fidata di lui aveva intuito che non era solo l'ambasciatore di suo padre Plutone c'era dell'altro. Ora naturalmente conosceva la verità. Era un semidio greco la prima persona a memoria d'uomo forse la prima in assoluto a fare avanti e indietro fra il campo greco e quello romano senza svelare a nessuna delle due fazioni l'esistenza dell'altra. Stranamente con questo si era guadagnato la sua fiducia. Certo non era romano non aveva mai cacciato con lupa né si era mai sottoposto al brutale attestramento della legione ma Nico aveva dimostrato il suo valore in altri modi aveva mantenuto il segreto dei due campi per la migliore delle ragioni il timore di una guerra si era tuffato nel tartaro da solo volontariamente per trovare le porte della morte era stato catturato e imprigionato dai giganti aveva condotto l'equipaggio dell'Argo 2 fin dentro la casa di Ade e ora aveva accettato un'altra terribile impresa rischiare la sua stessa vita per trasportare l'Atena Parthenos fino al campo mezzo sangue purtroppo procedevano a una lentizza snervante potevano viaggiare nell'ombra solo per qualche centinaio di chilometri a notte riposando durante il giorno per permettere a Nico di recuperare le forze ma anche così lui stava dimostrando più fibra di quanto Reina avesse pensato possibile il carico di tristezza e solitudine che si portava dietro era enorme e aveva il cuore spezzato eppure metteva al primo posto la missione perseverava una cosa che Reina rispettava e capiva non era mai stata una sentimentale ma provò l'improvviso impulso di coprirlo con il suo mantello e rimboccarlo come sotto una coperta si rimproverò da sola era un commilitone non il suo fratellino e non avrebbe apprezzato il gesto ehi Edge interruppe i suoi pensieri anche tu hai bisogno di dormire farò io il primo turno di guardia e cucinerò il rancio quegli spiriti non dovrebbero essere più tanto pericolosi ora che il sole sta sorgendo Reina non aveva notato quanto il cielo si fosse già fatto chiaro nuvole rosa e turchesi lo striavano a oriente il piccolo fauno di bronzo gettava un'ombra sulla fontana asciutta ho letto di questo posto si rese conto all'improvviso è una delle ville meglio conservate di Pompei la chiamano la casa del fauno Gleason scrutò la statua disgustato oh beh oggi invece è la casa del satiro Reina riuscì a sorridere stava cominciando ad apprezzare le differenze tra satiri e fauni se mai si fosse addormentata con un fauno di guardia si sarebbe svegliata con i bagagli rubati un bel paio di baffi disegnati in faccia e il fauno volatilizzato da un pezzo il coach era diverso per lo più in senso buono anche se aveva un'insana ossessione per le arti marziali e le mazze da baseball e va bene accettò faccia lei il primo turno aurum e argentum staranno di guardia con lei Edge aveva l'aria di voler protestare ma Reina fece un fischio acuto i levrieri metallici si materializzarono fra le rovine accorrendo da direzioni opposte nonostante tutti gli anni passati insieme Reina non aveva ancora capito da dove provenissero né dove andassero quando lei li congedava ma vedendoli si sentì sollevata Edge si schiarì la voce sei sicura che non siano dalmata somigliano a dei dalmata sono levrieri coach Reina non aveva idea del perché il coach avesse paura dei dalmata ma era troppo stanca per indagare aurum argentum fate la guardia mentre dormo ubbidite a glison Edge i cani si aggirarono per la corte tenendosi a debita distanza dall'Atena Parthenos che irradiava ostilità verso tutto ciò che era romano la stessa Reina aveva appena iniziato a farci l'abitudine ed era piuttosto sicura che la statua non apprezzasse la nuova sistemazione in un'antica città romana si distese e si coprì con il mantello purpureo chiuse la mano attorno al sacchetto di cuoio che portava appeso alla cintura dentro c'era la moneta d'argento che Annabeth le aveva dato prima che le loro strade si dividessero nell'epiro è un segno che le cose possono cambiare le aveva detto Annabeth il marchio di Atena è tuo adesso forse la moneta ti porterà fortuna fortuna o sfortuna si chiese Reina lanciò un'ultima occhiata al fauno di bronzo che si inchinava al cospetto dell'alba e dell'Atena Parthenos poi chiuse gli occhi e scivolò nel mondo dei sogni che si inchinava